Sono Ermanno Lavacchielli, conferente del caseificio sociale San Pietro e Paolo di Gaiato, Paullo, Modena. La nostra azienda, essendo nata nel 1965, ha sempre bisogno di essere rinnovata. Tramite uno dei servizi siamo venuti a sapere del bando del GAL. Con un finanziamento di 115.000 euro, il GAL ci ha fornito il 40% di contributi. Sicuramente senza questo contributo noi non avremmo fatto un investimento del genere. Con l'investimento che è stato fatto abbiamo rinnovato i doppi fondi e gli agitatori. Con il contributo abbiamo acquistato i tavoli spersori dove appoggiamo le forme nel momento in cui vengono tolte dalla caldaia. Abbiamo acquistato anche delle gabbie per la salamoia che ci permettono di allungare il tempo della salatura che è fondamentale per l'ottimo riuscito del nostro prodotto prima della stagionatura. Infine abbiamo acquistato anche un impianto di videosorveglianza. Lo scopo di questo investimento non è finalizzato all'aumento della capacità lavorativa dello stabilimento ma a un miglioramento di qualità del parmigiano reggiano in tutte le sue fasi di lavorazione per rendere più competitiva la cooperativa sul mercato. Grazie per la visione!